30 secondi al lancio Watcher 1 a Bravo 6 Watcher a Bravo, pass Aswell, qui 6 John, Makarov è fuori Ripeti, Aswell Makarov è fuori Si sta spostando, John Annullare Invertire la rotta Invertire la rotta ora Shadow 2, Capo Chilo Sono al porto Confermo quando il carico è nelle mie mani Attendere Ricevuto, Chilo Procediamo Pare di sì Questo può cambiare tutto Speriamo di non doverlo fare In tempo, how will I come? Stai nascolto Ricevuto Rina, parah Ho fatto come mi hai chiesto I container sono al sicuro Al porto non c'è nessuno a parte noi E alla baia? La baia è chiusa da ieri Bene Farah So che non mi riguarda ma Su, dimmi Il carico è molto potente, non è vero? Sì, lo è Dopo molti anni in Urzikstan C'è di nuovo la pace Ora siamo liberi Per favore Fai in modo che le cose Restino così Siamo tutti con te Sì, te la prometto I container si trovano Dina! Cazzo Cazzo! No! No! Qui, Echo 3-1 Contatto nemico Veicolo di Kilo fuori uso Ripeto, truppe in campo aperto Stanno sparando da più posizioni Ricevuto Resta in posizione Shadow 1 a Kilo Mi ricevi? Kilo Capo Kilo a Shadow 1 Ci hanno teso un'imboscata Credo che Echo 3-1 E gli altri stiano combattendo Shadow 1 a Kilo I coni vogliono i missili Equipaggiati e neutralizzali Comandante Comandante Ho dei tracciatori GPS Sulla mia nave Se li piazzi sui missili Non li perderemo di vista Devo ancora trovare i container Dina avrebbe saputo dove trovarli I manifesti saranno Nella capitaneria di porto La torre Affermativo Ricevuto Ricevuto Connice la Conte in fara Sì, sì, sì! raggiungi la nave o la torre per l'ultra entrambe non c'è tempo ci servono i trazzatori gps dalla nave il manifesto dalla torre il Atacuite! 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 Conne va a caccia! Occhi aperti! Aserti! hours 하게 out atacuite! Ehi! Ehi! Ti stanno cercando. Silenzio. La nave e la torre hanno quello che ci serve. Datti una mossa, Kilo. C'è un cavo. Un bloccante, farei fretta. Procedo verso il mercantile. Bene. Ho visto la tua nave, Graves. E di qua sono dei miei. Negativo. Hm, non è quello che volevo sentire. Oh! Non ma non era. Non ma pericotare. È così! Cosa! È un'occhiale! È un'occhiale. È čin'cii. L'occhiale! Non c'è mai? Cosa! È un'occhiale! Non c'è! il manifesto di carico ti danno la caccia, dai giù eccoli qui automatizzate Graves, ci sono tiratori sulla tua nave I tracciatori saranno nella sala di controllo, in plancia I tracciatori dovrebbero essere lì in giro Connie non cerca quelli ma i missili I tracciatori saranno vicini Vai alla plancia, cerca nella sala di controllo Sto ne vuoi chiedere? Ti hanno beccata I tracciatori devono essere vicini Vai alla plancia, cerca i tracciatori nella sala di controllo Cerco i tracciatori Vai alla plancia, cerca nella sala di controllo Per lo strano l'aria, non farti sentire I tracciatori saranno vicini Vai alla plancia, cerca i tracciatori nella sala di controllo U.A.V. partito U.A.V. partito I tracciatori I tracciatori devono essere qui in giro Vai alla plancia, cerca nella sala di controllo I tracciatori U.A.V. partito I tracciatori Unmulti Point I tracciatori saranno vicini. I tracciatori saranno nella sala di controllo, in plancia. I tracciatori saranno vicini, sono quasi alla sala di controllo. Non sono nascosti, ti troverai. Attenzione, Connie non ha lasciato superstiti sulla nave. Dobbiamo fare in modo di fargliela pagare. Il loro sacrificio non sarà inutile. Colpisci lì per entrambi, Farah. Dovrà però essere in vista, magari su un tavolo. Metà dei morti erano manovalli di Dina. In Urzikstan non c'erà più questa violenza, Connie l'ha riportata. Faccio attraverso la forza, Farah. Controlla sul tavolo, saranno lì. Graves, ho i tracciatori. Bene, ora raggiungi la torre e prendi quel manifesto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi lo ha sciato? Connie ha trovato un nostro container. Lo sta prendendo. Merda. Mi restano due. Se i missili andassero nello stesso posto, potrei ancora tracciare. È un grosso ciclo. Speriamo. Copertura assaltata! Copertura assaltata! Resta nascosta. Connie va a caccia. C'è attrezzatura della Shadow. Prendi ciò che vuoi. Ho un drone bomb. C4 volante. Fa attenzione, quella è roba potente. Mi hanno beccata! Il manifesto ci dirà dove sono esattamente quei container. che vuoi iniziare. Rancun pochino. Sono quasi alla torre! Prendiamo il manifesto prima di coni! Prendiamo il manifesto prima di coni! Nella torre! Cerca nell'ufficio di Dina al secondo piano, potrete essere lì. Prendiamo il manifesto prima di coni! 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 Ho il manifesto 1! Graves, ti trasmetto le informazioni dal manifesto! Prendiamo il manifesto! ricevuto! Diamoci da fare! Controlla le gru, staranno caricando un altro di quei container! Ok, guarderò dappertutto e li troverò! Capo Chilo a 3-1! situazione ci penso io mantieni la posizione alex mi servì vivo anche tu chilo ecco chiudo avanti fara dobbiamo scoprire dove quei coni vogliono portare i nostri missili perdura assaltata bello attacco farò dobbiamo scoprire quei tracciatori prima che coni se ne vada con i missili sei nella mezza hanno dato l'allarme a tutto il porto ora mettiamo i tracciatori prima che coni se ne vada con i missili metti c'è la tutta chilo tranqui un pochino no 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 raggiungo il container che 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 C'è l'obnamento! Sembra un drone zanzaro. È proprio così. Quell'affare si lancia in picchiata con precisione letale. Ho attivato la zanzara! Il container è in alto! Questo è imbarcato! Bene, ora sai già cosa fare. Non fermarti, chilo! Vado al prossimo! Piazza il tracciatore, chilo e il tempo passa. Rilevo pochi movimenti nemici. Vedo il container dei missili. È in alto. Devo salire. Ultimo tracciatore piazzato. Connie se ne va con i missili. Ricevuto. Hai fatto quello che dovevi, Farah. Adesso fai anche il resto. Ecco, mi ricevi? Forte e chiaro, Farah. Connie leva le tende. Ha avuto quello che voleva. Possiamo ancora farcela. Non è finita. Ecco, Achilo. Ci sei? Affermativo. Vieni. Roger. Sto arrivando. Mi dispiace, Dina. Pagheranno per questo. La giuro. Comandante! I missili dovevano essere un deterrente. Per imporre la pace. La guerra riesce sempre a tornare qui. Non se ne va mai. La Russia vuole il paese. Non può averlo. E adesso? Ora seguiamo il container. Vengo con te. No. Tu occupati dei caduti e avvisa i nostri. La Russia è di nuovo in Urzikstan. Qui hai lasciato companies impegnata. Vorrà la sua parte. Vero. Ma prima devo contattare qualcun altro. Vero. 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 Grazie a tutti.